buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi a grande richiesta vado a mostrarvi i passaggi per poter tentare di essere leggibili alle airdrop di chardeo un layer one molto interessante porterò poi una recensione completa di questo layer one tra pochissimi giorni prima di andare a vedere i passaggi fondamentali per partecipare al drop vi invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale lasciandomi un like attivando la campanellina che sono veramente tre semplici passaggi che richiedono pochi secondi per voi ma per me hanno un valore inestimabile ed ora andiamo a vedere come partecipare alle airdrop di chardeo un dopo la sigla pagina di chardeo un raggiungibile all'indirizzo chardeo un punto com e proviamo ad essere elegibili per l'eventuale drop è un layer one e vm compatibile quindi si può utilizzare metamask vi ricordo importantissimo partecipando ai drop vi consiglio di utilizzare un wallet non custodia come ad esempio metamask appositamente solo per i drop non mischiate i drop con il vostro portafoglio dove magari deteneste i vostri token le vostre cripto per holder perché non si sa mai qualora vogliate partecipare dei drop in autonomia non tutti i drop sono legite visto che anche in questo caso non sempre si riesce ad avere un quadro più chiaro la sicurezza prima di tutto utilizzate un wallet non custodia debitamente per questi drop per queste possibilità di guadagno gratis per prima cosa bisogna andare a impostare metamask con la test net di chardeo non si clicca su metamask se non sapete che cos'è metamask vi lascio il link in descrizione per le guide complete che ho rilasciato qualche tempo fa comunque nella playlist corso che ripeto valuta bloccine trovate veramente tutto il necessario per semplicità si può andare su chain list scrivere nella ricerca chardeum e vedete che abbiamo chardeo liberty 1.6 liberty 2.0 è semplicissimo cliccando su connetti wallet apre metamask e ce lo va a connettere in automatico lo facciamo sto passaggio sia per il primo quindi su liberty 1.6 clicchiamo su approva e successivamente lo facciamo anche per liberty 2.0 clicchiamo su approva anche in questo caso e se torniamo su metamask vedete che abbiamo settato in automatico liberty 2.0 liberty.6 non fate caso al punto 5 che erano dei miei test precedenti quindi lo elimino ora ci trasferiamo di nuovo al sito di chardeo e clicchiamo su claim testnet shm e seguiamo questi passaggi li facciamo entrambi clicchiamo sul faucet e seguiamo gli step quindi clicchiamo su this link tweet now si apre questa schermata andiamo a sostituire questo campo con il nostro indirizzo che troviamo su metamask di chardeo 1.6 clicchiamo su tweet a questo punto andiamo a cliccare sul messaggio copiamo l'url ci spostiamo di nuovo su chardeo un faucet copiamo l'url eseguiamo il caccia e clicchiamo su request shm attendiamo l'operazione e come potete vedere i will receive 100 shm su un clicchiamo su ok tornando su metamask come potete vedere ho ricevuto 100 shm come ben sapete ma lo ripeto per i nuovi questi sono token test quindi non si possono né acquistare né vendere non hanno valore ma serviranno per compiere alcune azioni per poi essere leggibili all'air drop ora sempre la metamask clicchiamo su chardeo liberty 2.0 copiamo il nostro address ci spostiamo di nuovo sul faucet andiamo sul 2.0 clicchiamo su tweet now facciamo lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima quindi seguiamo di nuovo tutti i passaggi anche sul 2.0 e attendiamo che ci vengono inviati i token test come potete vedere abbiamo 100 token test sia sull'1.6 sia sul 2.0 ora ci rispostiamo sull'1.6 poi andiamo a collegarci su uno swap ci colleghiamo su swap e terran giungibile l'indirizzo sua pet punto fine as comunque trovate il link poi in descrizione clicchiamo sul lancio up a questo punto connettiamo il nostro wallet metamask approviamo la firma di collegamento e come vedete in alto adesso viene reclusciuto metamask con i 100 shm ora non ci resta che fra l'altro che effettuare uno swap ad esempio su appiamo 50 shm per il token sw pd che è il token del protocollo swap ed clicchiamo su scambia accettiamo confermiamo lo scambio chiamo la transazione confermiamo e lo swap è stato inviato già che ci siamo clicchiamo anche su ad metamask quindi avremo poi il token registrato su metamask e clicchiamo poi sulla x ora non ci resta che fornire sempre in test liquidità andiamo su pool aggiungi andiamo inserire un quantitativo in questo caso io 49 shm metto 30 shm in automatico mi va a richiedere quanti token sw pd devo mettere come controparte in liquidità il mio saldo 0.5 quindi va benissimo approvo la transazione attendo il caricamento da metamask confermo vedete in alta destra una transazione in attesa sta elaborando attendiamo solo che sia completata transazione completata confermiamo così abbiamo anche gli lp token aspettiamo di nuovo la transazione che venga confermata accettiamo e basta transazione inviata abbiamo completato anche il processo per fornire liquidità possiamo poi tornare indietro di nuovo su trade e in questo caso eventualmente fare uno swap contrario metto 0.1 perché sono i quantitativi che vedete nel saldo e scambio 0.1 sw pd per 9.78 token shm approvo la transazione aspetto come al solito il caricamento e vado a finalizzare possiamo interagire anche su un altro swap dex punto chade un swap punto finance comunque link sempre in descrizione connettiamo il nostro meta mask approviamo la connessione e come vedete in alto a destra il wallet è stato riconosciuto e anche in questo caso come abbiamo fatto prima e adesso sta caricando perché come potete immaginare tantissime persone stanno cercando di compiere questi passaggi quindi li potete anche compiere in un secondo momento fate uno scambio aggiungete liquidità a esattamente come abbiamo fatto prima ora ci spostiamo su chardevo nei service raggiungibile l'indirizzo n ft punto charde un punto as clicchiamo su connetti wallet accettiamo come sempre le solite transazioni clicchiamo su mint accettiamo la transazione e abbiamo creato il nostro name service ora possiamo spostarci su un'altra piattaforma ci spostiamo su chardin boss n ft raggiungibile l'indirizzo boss punto charde un punto as e poi andiamo a mintare un n ft lo possiamo aumentare sia sulla versione 1.6 saliamo i fondi se no possiamo collegarci alla 2.0 perché lì probabilmente avremo ancora cento token quindi clicchiamo su mint n ft si apre il solito metamask confermiamo la transazione e basta la nostra operazione è stata fatta infatti come potete vedere anche su charde un liberty 2.0 che non aveva ancora utilizzata avevo 100 token adesso aumentato il boss baby n ft e mi sono stati scalati ma con queste dapp abbiamo effettuato diverse interazioni nulla vi vieta a interagire anche con altre dapp di charde un qualora vi avanzassero comunque dei token che vi permettano l'interazione bene siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento e come sempre spero che abbiate trovato il video utile e interessante vi invito come ho fatto in apertura a supportare il mio lavoro con un'iscrizione al canale lasciandomi un like vi ringrazio di cuore per l'attenzione e ci vediamo presto ciao ciao ciao